Per quanto riguarda la problematica è il parcheggio, si ha difficoltà a trovare parcheggio perché c'è tanta gente, tante macchine e quindi non riescono a farsi la passeggiata in tranquillità, a fare uno shopping spensierato. Le criticità sono tante, il parcheggio è un punto critico ma penso su tutta l'isola, noi per esempio personalmente noi abbiamo il parcheggio a pagamento annuale qui, questo qua del Ciolli, sebbene lo utilizziamo solo nel periodo estivo, comunque siamo abbonati con due o tre auto proprio lì. I parcheggi nel senso dei posti che non ci sono a disposizione per tutti, quello è chiaro, siamo diventati troppe macchine ognuno di noi e i parcheggi sono quelli che sono, gli spazi sappiamo quelli che sono, purtroppo bisogna inventarsi qualcosa, o meno macchine oppure servizi compresi per i lavoratori che scendono al porto nei vari alberghi al lavoro invece di venire con il mezzo proprio, magari devono essere agevolati a prendere un mezzo pubblico, lì si potrebbe fare qualcosa, spero.